Buona serata da Eleonora, stasera farò una stesa per vedere come evolve un rituale di legamento spirituale che ho svolto il mese di luglio. Allora, questo rituale ha colpito i sentimenti, diciamo, lo ha legato sotto soprattutto il profilo economico e sentimentale. Il tre di spade, appunto, indica la forte presenza di rituali di magia rossa e il due, appunto, mostra il legame tra voi due. Lui ha dei problemi forse lavorativi, questi problemi gli danno dei pensieri. Anche se ha molte entrate di denaro, lui ha dei pensieri, i suoi sentimenti però sono per te, quindi stai tranquilla. Lui ha dei sentimenti forti per te e abbiamo sempre il lato lavorativo che viene sempre riproposto. Quindi, io ti dico, secondo me, è molto preso dal lavoro. Ha una forte presenza lavorativa questa stesa e che, diciamo, prende molto del suo tempo, ecco. Lo dedica molto a questo. Però, la forte presenza anche della magia rossa che abbiamo fatto si fa sentire e lui è legato a te. Quindi è tutto ok.